Una telefonata può salvare una vita, soprattutto se stati d'animo di depressione e disperazione incontrano all'altro capo della cornetta una voce che sa ascoltare e maneggiare momenti di estrema delicatezza. E' quanto accaduto domenica sera quando i carabinieri di Urbino hanno sventato una minaccia di suicidio grazie all'abilità dissuasiva di un giovane militare della centrale operativa. Centrale Urbinate che riceve la telefonata di un uomo italiano di 60 anni che ha raccontato di avere un coltello minacciando di essere in procinto di utilizzarlo per farla finita. Il giovane carabiniero a questo punto crea un legame di empatia con lo stato di depressione dell'uomo e riesce ad ascoltarlo e trattenerlo al telefono per oltre un'ora. Ovvero per il tempo utile a individuare il cellulare da cui proviene la chiamata e riuscire a far trapelare la localizzazione dell'aspirante suicida, vale a dire un parco comunale nel territorio di Monte Grimano Terme. Un'ora di tempo in cui il carabiniere riesce ad allertare i colleghi del nucleo operativo radiomobile e i sanitari del 118 che in breve tempo raggiungono il sessantenne. Sessantenne che effettivamente aveva un coltello ma alla vista dei soccorritori e in seguito alla telefonata intercorsa decide di consegnare la lama ai carabinieri e consegnarsi ai sanitari per un ricovero all'ospedale di Urbino. Fra i motivi scatenanti la minaccia dell'insano gesto, una profonda delusione d'amore tale da accettare l'uomo in uno sconforto ai limiti del sostenibile.